se c'è qualcosa di interessante segnalamelo, io comunque tengo d'occhio anche lì, tengo d'occhio alla mia destra, allora vedo sempre un rettangolo al centro, lo tolgo? Sì ma c'è un rettangolo al centro, ecco adesso l'ho tolto, siamo sicuri? Bene, ho già cliccato, perfetto. Vi salutiamo e benediciamo dalla veneranda Casa Madre Sita nella città santa di Genova. Questa è la diretta Twitch di venerdì 24 giugno 2022. Come ben sapete le dirette Twitch vanno in onda il venerdì alle 19.30 circa. Questa sera siamo stati particolarmente precisi. Inoltre le dirette Twitch vengono anche replicate, per così dire, comunque visibili su Facebook e su YouTube. Che dire, sono arrivate molte richieste, molte domande, anche perché come sapete le domande possono essere, per chi lo preferisse, possono essere anche inviate prima che la diretta inizi. Ci potrebbero essere persone che per esigenze varie, per esempio per esigenze di lavoro non possono seguire la diretta, allora hanno la possibilità di inviarle anche prima che inizi. Su Twitch o anche se risultasse più comodo via mail. Le mail ufficiali dove potete inviare eventualmente le domande, se non le avete inviate su Twitch, le trovate molto facilmente andando nel sacro sito divinotelma.com in quattro lingue. Le uniche mail da usare per inviare richieste di varia natura sono quelle, non altre. Gli argomenti con i quali pensiamo di avviare la nostra diretta di questa sera sono pervenuti, per così dire, proprio da messaggi che abbiamo ricevuto. Che cosa ci offre questa settimana ormai trascorsa? Ci offre a livello nazionale l'episodio della scissione dei Cinque Stelle che sicuramente sapete, che noi avevamo previsto, era solo questione di tempo, il tempo è venuto, la scissione c'è stata, una scissione sostanzialmente di palazzo, almeno per ora, poi si vedrà, ma per il momento è di palazzo. È tornato il discorso vecchio, vecchissimo dell'uno vale uno, oppure l'uno non vale uno. È un discorso piuttosto sciocco, naturalmente noi abbiamo sempre detto, quando si sosteneva che uno valesse uno, che era una assoluta corbelleria. Non esiste l'eguaglianza to-cour nel genere umano. Gli umani non sono affatto uguali. Ci sono quelli stupidi e quelli intelligenti. Ci sono quelli colti e ci sono quelli ignoranti. Ci sono quelli acuti e ci sono gli scimuniti. Insomma, esistono vari livelli di essere umano. Esistono anche i sub-umani, naturalmente. I sub-umani sono coloro che non sono ancora giunti al livello di umanità. Quindi, che qualcuno scopra oggi questa novità, a noi sembra veramente curioso, perché l'unica cosa certa è che gli esseri umani nascono nudi, ma dopo poco, pochissimo in certi casi, risolto questo primo problema, subito inizia la diversità. Quindi, se alcuni 5 stelle, per esempio il giovin signore che vendeva bibite nello stadio di Napoli, ha scoperto adesso che uno non vale uno, ci ha messo parecchio per scoprire questo. È un po' la scoperta dell'acqua calda, solo che solge il sospetto che questa straordinaria scoperta sia troppo a ridosso delle prossime imminenti elezioni politiche quando lui, come anche altri, se avesse dovuto tenere fede ai sacri principi delle origini, avrebbe dovuto non presentarsi nelle liste, perché non ci si poteva presentare, ce l'hanno raccontato, lo hanno raccontato al popolo italiano migliaia di volte, per più di due legislature consecutive. Quindi, giovin signore delle bibite dello stadio, è tutto qui. Quindi adesso si scopre che uno non vale uno, perché tu in realtà non vuoi lasciare l'abbondante greppia, perché è chiaro che quando si è pagati più di 10.000 euro al mese, per non fare assolutamente nulla, tranne che qualche passerella per andare a prelevare qualcuno all'aeroporto di Fiumicino, di Ciampino, se porta voti, o altre bagianate di questo genere, come ci riferiamo in questo caso a quella tizia vestita di verde che era arrivata dall'Africa dove l'avevano rapita, e tu sei andato di corsa ad accogliere questa tizia vestita di verde che faceva promozione, oggettiva promozione, ai selvaggi che l'avevano rapita per indottrinarla e hai accettato che scendesse dall'aereo vestita di verde mentre tu avresti dovuto stare in ufficio a lavorare a vantaggio del popolo italiano che ti dà un'enorme quantità di grana ogni mese. Questo era il tuo dovere. E, altra cosa, è vergognoso che il governo italiano abbia pagato un riscatto ora che ci viene in mente il riscatto che naturalmente ha negato di avere pagato per far tornare in Italia dall'Africa la cicciona vestita di verde. Quel milione o due milioni o tre milioni di euro sarebbero stati spesi molto meglio se a vantaggio degli umili, dei diseredati, degli oppressi ed in particolare per costruire asili nido o magari scuole per l'infanzia e invece no. Il popolo italiano per l'ennesima volta è stato costretto a pagare un riscatto per far tornare una cicciona vestita di verde che francamente se fosse di peso dagli italiani poteva starsene tranquillamente in Africa e se voleva farsi indottrinare che si facesse pure indottrinare non ce ne potrebbe calere di meno. Ci interesserebbe in realtà che in futuro visto che la legge vieta di pagare i riscatti perché naturalmente pagando un riscatto si favoriscono ulteriori riscatti è ovvio è ovvio giovin signore dello stadio non ti rendi conto che è una ovvietà che non bisogna pagare i riscatti perché se no ce ne sarà subito dopo un altro e poi ancora un altro eppure tu sei andato addirittura a fare accoglienze trionfali ma naturalmente l'hai fatto perché pensavi di raccattare qualche voto non li raccatterai perché gli italiani non sono stupidi fino a quel punto lì non che questo voglia dire che se non li raccatterai tu li raccatterai l'avvocato Gattamolta perché l'avvocato Gattamolta è messo ancora peggio di te perché tu almeno sei carino puoi raccattare qualche voto di qualche fanciulla di qualche fanciullo di qualche nonna di qualche nonno ma solo per quello non perché sei particolarmente colto o intelligente solo per quello quanto all'avvocato Gattamolta invece che lo abbiamo sentito blaterare frasi sconnesse assolutamente ridicole del tipo siccome tu avevi detto che te ne sei andato con i tuoi e tutti hanno commentato quindi che il Movimento 5 Stelle non è più il primo partito in Parlamento a questo punto Gattamolta ha commentato che non gli interessava rappresentare il primo partito in Parlamento ma il partito che si occupa del popolo e che risolve i problemi degli umili di chi soffre di chi ha fame eccetera eccetera ma Gattamolta ma credi veramente che gli italiani credano alle tue parole credi veramente che possono accettare da te una lezione di etica di morale o di intelligente offerta politica ma credi che gli italiani siano tutti fessi Gattamolta hai cambiato casacca innumerevoli volte hai governato con Matteo Salvini e quella probabilmente è stata per l'Italia una fase ottimale relativamente a Matteo Salvini perché se non fosse stato per lui effettivamente non si capiva quel governo a cosa sarebbe servito poi hai governato in un governo con la sinistra financo la sinistra estrema trascinandoti dietro questo monstrum cioè il cosiddetto reddito di cittadinanza che fa orrore all'intelligenza degli uomini voi avete millantato voi 5 stelle e anche tu Gattamolta hai millantato anche tu Gattamolta devi assumerti le tue responsabilità creando questa finzione giuridica questo reddito di cittadinanza tu non hai risolto i problemi della povertà e non hai risolto i problemi della occupazione perché gli unici che tu sei riuscito ad occupare con questa legge biasimevole e sciagurata da eliminare il più presto possibile gli unici che ne hanno tratto vantaggio sono i tutor quei 3000 quelli che sono 3000 3500 quelli si hanno risolto il loro problema personale e cioè hanno trovato un lavoro cioè praticamente non fanno nulla perché poi è chiaro che se il lavoro non c'è anche se i tutor fossero eccezionalmente intelligenti e competenti mi spieghi gatta morta come fanno i tutor a dare un lavoro se il lavoro non esiste se le fabbriche stanno chiudendo se la disoccupazione è increscendo che quei pochi che lavorano lo fanno per poco tempo ad esempio d'estate tra un conno di gelato ed una granita ma non è un lavoro strutturale quello è un lavoro per raccogliere qualche spicciolo voi siete la rovina dell'Italia detto questo bene allora salutiamo gp pantusa gli confermiamo che noi siamo disponibili l'avevamo detto quindi in linea di principio non abbiamo alcuna difficoltà a partecipare ad una agora chiamiamola agora poi si può chiamare in tanti modi qua ci sono diverse diverse domande vediamo di cosa si parla questa volta a Sgarbi si Sgarbi ma Sgarbi noi lo conosciamo da diversi anni in diverse situazioni secondo il codiere della sera che lo ha confermato anche recentemente le persone che in Italia alzano l'ascolto apparendo in programmi vari sono tre fondamentalmente tre una volta erano cinque e adesso sono tre e uno di questi tre è appunto Sgarbi gli altri due sono Berlusconi e il divino Telma questo articolo del codiere della sera nel caso qualcuno pensasse che ce lo siamo così immaginato invece è leggibile facilmente andando nel sacro sito divinotelma.com in quattro lingue e lì lo trovate lo trovate sì noi lo consideriamo possibile questo questo asserto del codiere della sera perché pensiamo in effetti che Sgarbi abbia una intelligenza acuta e pensiamo che reciti certo questo è ovvio è ovvio che recita ma lo fa però in modo intelligente quindi non stupisce affatto quello che dice il corsera che lui è uno dei tre con Berlusconi e il divino Telma ad alzare l'ascolto lo fa utilizzando le sue tecniche come Silvio Berlusconi lo fa utilizzando le sue ognuno usa le proprie insomma ecco ha preso zero voti in che senso cioè non riesco ma la questione della lista quello è un altro mondo una persona perché una persona può avere successo in un settore e non necessariamente in un altro Sgarbi è abile è un animale da palcoscenico ha un supporto mediatico che naturalmente lo facilita e quindi è in grado di alzare l'ascolto però questo di per sé non significa che se poi la stessa persona si presenta ad una competizione elettorale in un partito qualsiasi debba per forza essere eletto bisognerebbe analizzare la situazione locale quali erano le esigenze di quella particolare località sono tanti i fattori che possono giocare un ruolo d'altro canto noi ricordiamo ma ce ne sono tanti esempi di questo genere ci viene in mente per esempio che Costanzo Maurizio Costanzo anni fa aveva gestito l'aveva forse anche scritta una 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 pièce teatrale e l'aveva anche interpretata lo trovate sicuramente in rete questo episodio se non lo conoscete e per quello che a noi risulta non è stato un grande successo ma questo deve stupirci no no perché lui ha un suo spicchio è un uomo di potere si è costruito un meccanismo di potere ha una capacità affabulatrice discreta ha quindi questo spicchio e nello spicchio riesce ad ottenere risultati significativi poi non è detto però e infatti quell'episodio lo ha dimostrato che se tentasse di fare altro la cosa funzionerebbe aveva anche tentato se ben ricordiamo anni fa di fondare un giornale che si chiamava l'occhio ed è stato l'occhio un totale fallimento per quello che a noi risulta eppure uno penserà ma come perché ma perché perché magari chi è in grado di gestire un programma televisivo non necessariamente può fare al meglio e portare al successo uno strumento di carta come è un giornale della vecchia maniera quindi non siamo stupiti per quello che è successo a Vittorio Sgarbi perché l'importante è che una persona almeno in un settore riesca a dare mostra di se stessa a recare un messaggio vediamo che continuano ad arrivare domande bisogna organizzare certo certo sarà organizzato bene sicuramente quando verrà il momento senz'altro noi vorremmo che la Gorà che la Gorà coinvolgesse appunto tante persone ecco c'è arrivata anche una domanda che riguardava il film che ci è stato dedicato dal regista Luca Ferri ulteriori notizie comunque su questo argomento le trovate anche in rete basta andare nella nostra pagina ufficiale facebook oltre che nel profilo instagram e trovate appunto l'annuncio ufficiale siglato da Cinecittà che si riferisce al film che ormai è nato per così dire è nato anche ufficialmente e che ha per titolo ultima vita terrena di Amleto Marco Belelli se voi andate in rete e cliccate ultima vita terrena di Amleto Marco Belelli trovate appunto una scheda di Cinecittà dove si spiega di che cosa si tratta è un film che ha una durata di 100 minuti il regista ci aveva detto che è il film lui ne ha fatto tanti e ha vinto anche moltissimi premi in ogni parte d'Europa e si tratta di film tutti sottotitolati in inglese perché hanno hanno poi l'abitudine di farli girare nell'ecumene il regista ci diceva appunto che è stato il film più lungo della sua vita il regista è Lucas Ferri che certamente conoscete e i suoi film non sono film panettone ma sono film di alto profilo intellettivo quindi sono certamente consigliati a persone intelligenti o a persone che desiderano diventare intelligenti o più intelligenti di quello che sono ognuno poi decide a quale categoria appartiene non possiamo aggiungere molto altro perché le prossime iniziative connesse al film sono secretate e però quando questa secretazione sarà rimossa certamente vi teremo informati sulle tappe dove sarà presentato in quale città se in Italia o in altra città d'Europa e via dicendo insomma e questo riguarda il film ecco questa domanda su razionamento dell'acqua è preoccupante noi abbiamo visto le immagini desolanti dei campi aridi dimessi abbiamo visto questi agricoltori angosciati per quanto stava accadendo e vedere davanti a loro annichilire il frutto del loro lavoro del loro impegno è molto triste ma questo discorso è naturalmente connesso alla trasformazione epocale che è in corso e che è irreversibile questa è la situazione nessuno si illuda bisognerebbe rovesciare la clessidra rendere ciò che accade non più possibile ma questo presupporrebbe che vi sia una classe politica a livello planetario che sia in grado di fare ciò ma naturalmente chiunque può constatare che così non è la classe politica a livello planetario a parte qualche rara eccezione non è in grado soprattutto in questo frangente storico non è in grado di fare ciò quindi che cosa accadrà l'acqua continuerà a difettare ciò che era splendido un tempo cioè le messi rigogliose sarà un lontano ricordo i fiumi svaporeranno si inaridiranno molti ambienti diverranno di tipo carsico quindi fiumi che prima erano all'esterno scivoleranno nell'entroterra salvo poi riapparire più in lontananza questa situazione disperante è destinata a perdurare e ad aggravarsi perché non dimentichiamo che vi è in corso una guerra che coinvolge ormai larga parte del pianeta a settembre le prime dolorose avvisaglie coinvolgeranno anche il popolo italiano l'acqua sarà uno dei vari elementi che contribuiranno alla crisi epocale che sovrasta quindi la vita di voi tutti che ci state ascoltando carissimi peggiorerà senza alcun dubbio non fidatevi minimamente di quel che dicono i politici perché i politici mentono per natura voi sapete in quel film che certamente avete visto c'era un signore che parlando con un altro diceva che i politici sono quelle certe persone che chinandosi su un bambino per accarezzarlo gli rubano la caramella ecco questi sono i politici quindi adesso siamo ancora al 24 giugno e loro non vi diranno che la situazione è fuori controllo e che a settembre ancora peggio ad ottobre la situazione sarà molto molto grave sotto il profilo economico sociale politico le famiglie saranno in situazioni veramente ricolme di pene di angosce di ansietà ma ve lo diranno allora ecco allora qualcuno comincerà a dirvi dovete stringere la cinghia perché non ci sono mezzi per sostenere tutti a livello cui siete abituati cominciate a razionare cominciate a diminuire la temperatura a casa vostra evitate di comprare cose troppo costose preparatevi a sobri e cene e sobri pranzi anzi sarebbe meglio se evitaste di mangiare di giorno e mangiaste soltanto di sera perché mangiando soltanto di sera una pasta asciutta con qualche goccia d'olio e un pizzico di sale ciò è sufficiente magari una volta alla settimana potrete anche mangiare una mela una bella mela o una banana una volta al mese potrete anche concedervi mezzo litro di vino questi discorsi adesso voi non li potrete sentire ma li sentirete a partire da settembre quindi che consiglio vi possiamo dare su questo argomento di cominciare a fare qualche provvista per esempio tutto ciò che dura tutto ciò che è commestibile ma dura comprate per esempio un quintale di patate e tenetevelo in casa comprate un sacco di farina non un etto un chilo un sacco un bel sacco di farina e mettetevelo in casa comprate olio sale perché anche il sale è a rischio tornate a comprendere in qual maniera si può produrre il pane a casa propria non pensate che la soluzione sia andare dal fornaio perché il fornaio potrebbe diventare col tempo un genere di lusso quindi sarebbe cosa buona giusta e soprattutto intelligente che voi cominciaste come facevano le vostre nonne a farvi il pane con le vostre mani che sarà anche più buono perché l'avrete fatto voi quindi potrete dire ecco questo è il frutto del mio lavoro arrivano notizie di vario genere questo dice cacciare l'isola dei famosi sì ma noi non amiamo non amiamo molto sprecare il nostro preziosissimo tempo acciacolare acciacolare lo usano in veneto ci sembra è un verbo molto carino acciacolare di persone che mettono al centro della propria attenzione la plastica e che non hanno altro mondo che quello insomma quindi non inoltre se noi ci accolassimo di queste persone daremmo loro visibilità perché dovremmo farlo mentre ci sono questioni ben più importanti ben più importanti e comunque c'è anche il nostro avvocato di Roma l'avvocato principe del foro massimiliano Ermanno Kormuller che si sta già occupando di quella vicenda e siamo molto ottimisti sull'esito è l'ultimo pertanto dei nostri pensieri poi cos'altro c'era bene sì l'avvenire dell'Italia ma questo l'avevamo già illustrato molto chiaramente anche in relazione alla pandemia anche queste persone che ci pongono il problema della pandemia le avevamo già rassicurate dicendo che questa pandemia è ormai residuale e la possiamo considerare endemica poi certamente verranno anche in Italia altre sciagure tipo il covid ma ne parleremo al momento opportuno la peggiore comunque sarà anche questo l'avevamo già detto fra dieci anni quando tornerà una forma gravissima che sarà assimilata al covid ma peggiore noi se a qualcuno potesse interessare avevamo già annunciato l'avvento del covid che adesso è diventato endemico chiunque può andare nel nostro profilo instagram andare a due anni fa al 2020 all'epoca del carnevale di viareggio quindi facilmente rintracciabile e troverete appunto nel nostro profilo instagram andando al 2020 carnevale di viareggio una nostra profezia in risposta ad un presentatore rai di quelli che il calcio che ci aveva chiesto appunto cosa sarebbe successo e noi avevamo risposto il peggio deve ancora venire infatti dopo qualche giorno il peggio è giunto se non ci credete andate lo trovate facilmente andate su instagram 2020 probabilmente era febbraio perché il carnevale di viareggio immaginiamo sia a febbraio quindi lo trovate molto facilmente vediamo qua se c'è qualcos'altro di interessante l'eutanasia dipende naturalmente dipende il tema va inquadrato in quello più generale del fine vita ma anche del dopo vita e della reincalmazione perché trattare di un aspetto e ignorare gli altri non permetterebbe di inquadrare il contesto quindi a nostro avviso bisogna tenere presente tutti i dati tutti gli elementi per poi formare il puzzle la morte non esiste noi ve l'abbiamo già spiegato tante volte a meno che per molte non intendiate la dissoluzione dell'involucro materico ma quello è semplicemente un dettaglio in realtà appena giunge il momento della svolta e dell'ingresso nella nuova dimensione oltre il velo di iside a quel punto il corpo è ormai materia inerte senza valore senza importanza la dimensione astrale di cui voi siete a quel punto parte integrante vi avvolge e continuate a vivere e allora l'eutanasia in questa prospettiva cosa vuol dire ma vuol dire semplicemente che un signore o anche una signora un essere umano quale che sia il suo livello evolutivo arriva alla conclusione che non ha senso continuare a vivere perché non è appagante non è abbastanza appagante magari vi sono problemi di salute che limitano troppo il senso della vita la trasformano in una tragedia e allora a quel punto queste persone decidono di chiudere noi comprendiamo la loro scelta non ci sentiamo di giudicarle perché ci rendiamo conto che davanti ad un dolore estremo ad una sciagura terrifica coinvolgente che corrode i sensi che corrode la mente che stravolge il senso della vita si può anche decidere di procedere in quella direzione cioè la direzione dell'annientamento della fonte del dolore che è il corpo a quel punto è il corpo se si tratta pertanto di una scelta autonoma libera consapevole noi non la condanniamo naturalmente naturalmente occorre fare tutto ciò che è necessario ed utile per spiegare illuminare far comprendere a chi si propone di eliminare il proprio corpo fonte di dolore ciò che questo implica ma poi la scelta naturalmente la scelta è di chi soffre non può essere non può essere di qualche burocrate sottolineiamo che il sofferente deve essere perfettamente informato sul suo status deve sapere molto bene qual è la situazione se ci sono possibilità di recupero di miglioramento oppure no quali sono le alternative se ci sono delle alternative ma poi ripetiamo la scelta spetta comunque a chi soffre non al politico quello che arraffa ogni mese come si era detto prima più di 10.000 euro al mese senza fare praticamente nulla tranne che cianciare fare promesse a vanvera promettere leggi che trasformeranno il mondo nel paradiso quando è ben noto che il paradiso ormai sulla terra non verrà più se mai c'è stato il pianeta terra non sta andando verso l'eden sta andando verso la catastrofe verso l'expirosis verso la distruzione finale quindi l'eden è piuttosto lontano insomma a tutti coloro che soffrono che sono in ascolto in questo momento se hanno preso questa decisione noi diciamo di riflettere valutare attentamente analizzare analizzare il problema a fondo in tutti i suoi risvolti e poi liberamente decidere liberamente decidere avete certamente tutta la nostra comprensione e la nostra speciale benedizione qui vediamo altri quesiti vediamo ecco colmuller è lo stesso avvocato sì l'avvocato massimiliano colmuller è un noto principe del foro romano ed è quello che si è occupato appunto anche del caso di cui si sta parlando noi in realtà non abbiamo nulla di personale lo abbiamo detto tante volte con quella persona anche perché noi siamo l'incarnazione dell'amore non certamente dell'odio noi non odiamo nessuno spargiamo soltanto amore ognotta e cioè ovunque il problema quindi non è questo il problema è che come abbiamo spiegato in altre occasioni anche da Barbara D'Urso abbiamo spiegato più volte il problema è che chi rompe paga è un concetto basilare del diritto internazionale che poi viene declinato nei vari paesi secondo anche i costumi ancestrali e altri fattori ma comunque questo principio basilare c'è sempre stato anche se andate a guardare il diritto romano o anche certi diritti che sono stati elaborati in epoca romano barbarica notate che il concetto del risarcimento persino presso i barbari era presente ora è naturale che se noi siamo spinti violentemente al suolo e il risultato è che siamo trasportati in elicottero velocemente in clinica per cercare di salvare la vita perché la vita era a rischio si sono rivelati esserci nove punti di sutura quindi solo per che siamo stati assistiti da forze esterne non corporee noi siamo ancora qui ma altrimenti non saremmo più qui tra voi nove punti di sutura i danni sono stati gravissimi sotto molti aspetti sembra del tutto ovvio che ci debba essere un risarcimento quindi è un'assoluta assoluta costatazione di un dato di fatto insomma poi cos'altro c'era la questione poi del grande fratello vip che c'è stata posta in un'altra domanda c'era già stata posta anche in precedenti edizioni anche in altre sedi su altre piattaforme la risposta è sempre la stessa cioè dipende dipende se il livello è quello che abbiamo constatato nell'ultimo francamente preferiremmo astenerci da forme di coesistenza primordiale e palacitticola se il livello fosse quello che invece abbiamo sperimentato non nella seconda isola dei famosi ma nella prima quella del 2012 quella in cui tra l'altro c'erano i vip perché nell'ultima francamente non si capisce chi fossero questi vip nella prima almeno si capiva perché c'era Valeria Marini c'era c'era Carmen Russo c'era Rossano Rubicondi eccetera eccetera beh allora se fossero quelle le persone presenti al grande fratello vip o simili a quelle persone ammesso che ce ne siano allora il discorso potrebbe cambiare ci viene in mente Rossano Rossano era un gigante rispetto a quei grotteschi omuncoli a quelle panciute donette una più ignorante dell'altra che abbiamo visto in certi programmi televisivi non avevano niente da dire ma perché non avevano niente da dire perché la loro zucca era completamente vuota ed era piena di cosa semplicemente di gossip e spazzatura gossip e spazzatura noi non intendiamo collaborare e coesistere con questa sauna ma se fosse invece una sauna a quei livelli come appunto Carmen Russo Rossano beh allora il discorso cambierebbe naturalmente per il momento siamo comunque concentrati nei prossimi tempi su altri fronti adesso che il film che il regista Luca Ferri ci ha gentilmente dedicato a parte che oltre che dedicato lo abbiamo anche lo abbiamo anche fatto l'abbiamo fatto insieme interpretato certo allora ci occuperemo del film per due o tre mesi dobbiamo prestare attenzione al film e poi dobbiamo anche prestare attenzione all'uscita del nostro prossimo libro che è dedicato alle streghe e che deriva proprio dalla nostra ultima tesi magistrale sul Malleus Maleficarum che potete se non lo sapete ve lo diciamo adesso potete assistere vedere con i vostri occhi la discussione di questa tesi magistrale sulle streghe in vario modo ad esempio andando su youtube cliccando sempre divino Thelma Malleus Maleficarum e lì c'è offerta a voi la discussione della tesi sulle streghe che è una discussione di più o meno mezz'ora può servire come introduzione per inquadrare il tema per inquadrare l'argomento poi abbiamo in animo di inserire anche nel sito ufficiale oltre che questa discussione sulle streghe quella c'è già da un momento all'altro inseriremo anche probabilmente un video che ci è stato sollecitato da alcuni tra voi che abbiamo concesso tempo fa alla più importante televisione russa la NTV privata all'epoca la guerra non c'era ancora era una delle poche televisioni libere della Russia adesso non sappiamo se sia stata censurata eliminata perché in Russia accade un po' di tutto quindi ma il video ce l'abbiamo anche noi quindi il video di quella intervista che è già presente nel sacro sito divinotelma.com sarà anche visibile su youtube per facilitare appunto quanti fossero interessati in quel video alla televisione russa noi affrontiamo temi di vario genere compresa una che riguardava Putin ci venne formulata una domanda che riguardava Putin e noi rispondemmo ma non vogliamo a questo punto aggiungere altro perché non vogliamo rovinarvi la sorpresa insomma quindi a questo punto vediamo se abbiamo ancora spazio per poter andare o se ci fermiamo vediamo vediamo ecco sì direi che siamo in grado di fermarci che dire prima di lasciarvi naturalmente vi invitiamo a ricevere la nostra benedizione quindi allontanate dal vostro corpo gli oggetti metallici di qualunque genere rivolgete nella nostra direzione il vostro sguardo aprite il palmo della mano sinistra nel gesto catartico figli di letti per per entrare insieme nella grande catena di forza positiva fonte di purificazione e di vita la nostra benedizione la nostra benedizione discenda su voi amatissimi figli e su voi rimanga per sette giorni benedizio benedizio nostra su per vos descendat direttissimi figli et per septem dies maneat siate lieti di forza